Si apre la stagione estiva e si fanno fatica a trovare professionalità legate alla stagionalità, secondo te è una cosa legata alla mancanza di voglia di lavorare dei giovani o per le paghe troppo basse in questi ambiti? Secondo me per le paghe troppo basse, cioè vengono sottopagati sicuramente, la voglia di lavorare arriva dal momento che sei sottopagato e quindi molti giovani preferiscono stare a casa? Ritengo che in realtà non si tratti di entrambe queste ipotesi che avete formulato, penso più che i giovani oggi spesso non restano volontariamente a lavorare nel territorio perché preferiscono uscire dai nostri confini del Polesine perché a volte forse è più semplice trovare lavoro e trovare un'occupazione più stabile. Nel territorio ci sono delle opportunità, è pur vero che con l'aumento dell'inflazione e il caro prezzi che c'è in generale in questo periodo è più complesso magari offrire dei contratti a lungo termine, però sono gli stessi giovani che prediligono e scelgono spesso di lasciare il territorio e andare a lavorare in altri contesti in Italia o anche all'estero. Quindi la cosiddetta fuga dei cervelli, ahimè, continua e lo dico da imprenditrice qui del territorio che spesso si è ritrovata negli ultimi anni nella difficoltà di trovare nuovi giovani competenti che volessero rimanere a lavorare in questo territorio. Causa e effetto, praticamente ognuno ha una propria opinione come ce l'ho io, sicuramente è una con causa, c'è poca voglia di lavorare da parte delle classi più giovani, un po' anche perché l'assistenzialismo manifestato dallo Stato è un po' eccessivo per me e sicuramente però è anche altrettanto vero che tanti miei colleghi cercano di prendere tre piccioni con una fava e questo è mancanza di rispetto nei confronti anche del lavoratore. Ci vorrebbe un attimino più di equilibrio da parte di tutti e sicuramente le cose funzionerebbero meglio. Chiaro che poi dopo ognuno ha la propria opinione e quindi non sto qua ad allungare tutto quello che può essere un commento, mano d'opera in effetti ce n'è poca in giro, è chiaro che la mano d'opera professionale va adeguatamente retribuita, questo per me è il mantra di tutto. Non credo che sia una questione dei giovani che non hanno voglia di lavorare anche perché parlando anche con molti dei miei coetanei c'è voglia di fare e diciamo che ci sono molte realtà anche nel nostro territorio che c'è una paga diciamo bassa però riporto anche la mia esperienza, io adesso lavoro in un'attività dove ci sono due professioniste che hanno a cuore la formazione dei giovani e quindi ho un'esperienza positiva.